Bella a tutti ragazzi, buon inizio settimana e che dire il lunedì è sempre una merda per tutti ma non preoccupatevi c'è il contest di Kino Eccoci ritrovati raga come ogni lunedì sul mio canale con un nuovo contest avete deciso voi l'arma ma soprattutto avete deciso voi come modificare l'arma quindi l'arma in questione abbiamo detto che è il cigno e avete scelto di mettergli l'elemento ad acqua quindi insieme andrò a cambiarlo subito da fuoco e la portiamo ad acqua Ecco fatto Allora per prima cosa vorrei farvi anche vedere come funziona il cigno com'è come arma, se ne vale la pena partecipare al contest o magari lo trovate completamente inutile Intanto voglio farvi sapere che mi son tenuto un cigno a fuoco se qualcuno di voi non gradisse il cigno ad acqua ne ho solo uno disponibile però Come funzionerà il contest raga? Allora se questo video raggiunge 200 like sceglierò ovviamente 3 persone di voi Se i like arrivano 300 ne sceglierò 5 di persone Quindi possiamo arrivare a 5 vincitori totali raga Se non riuscite a vincere questo contest non preoccupatevi perché io porterò contest ogni settimana L'arma la decidiamo insieme A tal proposito vi annuncio anche che mi hanno aperto la community Sfrutteremo appunto questa community per decidere quali armi portare E non farò più richieste nei video Dunque raga Hashtag partecipo nei commenti per partecipare E non temete di non farcela perché Ci sarà anche la live dove giverò tantissima roba raga come avete visto nelle mie live Purtroppo ho un po' di problemi nel senso che devo startarle più volte per farle partire Ma comunque i regali ci sono per tutti Io vi ringrazio di supportarmi perché siete veramente tantissimi Di questo sono veramente veramente contento Non avrei mai immaginato di raggiungere neanche questa soglia Spero di poter continuare con voi raga il più possibile E detto questo io vi saluterei Per il video di oggi è tutto Ma non mancate sul canale che vi spoilerò già che a breve uscirà un video bomba raga E sapete che quando io dico un video bomba è un video bomba Per il video di oggi è tutto Semplice video contest Spero che partecipiate in molti E ci vediamo domani Grazie a tutti Grazie a tutti Bella Nico Eh t'ho visto però Non è inutile che ti... anche tu Oh un altro Ragazzi vanno tutti addosso me Oh 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 Oh